Siamo con il professor Vittorio Altomare per questo appuntamento del 7 aprile con Bici Rosa, benvenuto professore. Grazie, bentrovati e questa è la settima edizione di Bici Rosa. Quest'anno l'attenzione e soprattutto la raccolta fondi è dedicata ad un aspetto particolare della prevenzione delle donne giovani, delle donne mutate che hanno un rischio ereto familiare molto alto. Quindi vi aspettiamo tutti il 7 aprile allo stadio Nando Martellini di Roma, venite numerosi perché quest'anno sarà una bellissima giornata di prevenzione e cura per la donna. Esatto, ricordiamo anche la maglietta di Bici Rosa e l'appuntamento alle ore 10,